l'Inter è stata quella che più o meno ci ha provato di più nel corso dei 90 minuti è stata un po' sorpresa comunque dall'atteggiamento del Napoli che comunque aveva già fatto questo 3-5-2, 3-4-3 in questo caso contro la Fiorentina però ovviamente era comunque un assetto relativamente nuovo e il Napoli ha impostato la partita come fanno le squadre che giocano a tre quindi con una marcatura a uomo cercando di chiudere gli spazi in questo caso quindi l'Inter si aspettava probabilmente di avere più campo e ha un po' faticato per tutta la partita nel trovare spazi il Napoli però dall'altro canto ha un po' rinunciato ad essere propositivo nel corso della partita perché comunque ha pensato più che altro a limitare l'Inter che appunto teneva il controllo della palla e l'Inter ha giocato soprattutto sulle fasce cercando in quel caso di sfondare attraverso i cross specialmente di Di Marco che non era proprio in grandissima serata ha sbagliato un bel po' di palloni invece appunto il Napoli più che altro si affidava alle ripartenze in velocità quando riusciva a lanciare per esempio Kvara Schelen in velocità sono state quelle volte in cui ha dato una parvenza di pericolo anche se pure Kvara comunque sicuramente non è nel momento più lucido della sua stagione poi è stato sempre abbastanza limitato con una certa accortezza dei difensori dell'Inter quindi c'è poco da dire perché entrambe hanno giocato un po' in maniera ottusa scusate ho fatto un piccolo ban al volo sotto il posto dello spam della cosa perché se mi si dà del fascista un attimo si banna subito perché è la cosa peggiore che mi si possa dire insieme alla mafioso ragazzi sappiate però un'informazione che voglio darvi a voi a tutti quelli che stanno seguendo a tutti quelli che guarderanno la replica eccetera siete fascisti se criticate questa cosa dell'Arabia Saudita sappiatelo cioè se criticate i fischi a Riva siete fascisti sappiate questa cosa qui perché sono arabi quindi possono fare la loro cultura ma io mica sono comuni scusate se ho interrotto l'analisi però veramente queste robe mi andrei matti no 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 ci sta assolutamente niente vabbè ho detto c'è poco da dire perché comunque entrambe le squadre hanno sono un po' trincerate un po' trincerate nel loro modo di giocare il Napoli ha cercato di limitare il tutto soprattutto dopo l'espulsione perché voleva solo andare ai rigori contando anche dal fatto che non avrebbe giocato i supplementari però alla fine lo sfondamento dell'Inter ha portato al risultato alla fine nella maniera più atroce possibile per i tifosi del Napoli sì peraltro come diceva Gabriele con questo collo Autaro ha agganciato Vieri a quota 123 era già il decimo marcatore nella storia dell'Inter ora è non a pari con Vieri Vieri avanti per quanto riguarda i minuti gol per minuto e c'è Icardi a 124 per cui probabilmente arriverà all'ottavo posto nel giro di qualche partita massimo se non già dalla prossima magari e parliamo di un giocatore clamoroso e queste statistiche sono sempre molto interessanti perché secondo me io sono molto fissato con queste statistiche qui storiche soprattutto legate ai giocatori d'attualità cioè il giocatore d'attualità che entra nelle statistiche delle presenze all time, top 10 o top 10 dei gol perché secondo me non sono abbastanza celebrate solitamente per quanto siano importanti e secondo me ci restituiscono solo quando poi terminano le avventure di certi giocatori quanto siano stati grandi per un determinato club e magari quando li viviamo non riusciamo a capire al 100% quanto stiano facendo quanto non abbiano fatto eccetera eccetera per cui secondo me è giusto che venga celebrato e questi numeri vengano vengano celebrati insomma al massimo il Napoli è rimasto mazzarriano in questo momento e in questo momento ha fatto l'unica cosa che poteva la partita sarebbe finita dopo 45 minuti se avesse deciso di giocarsela alla pari sono d'accordo al 100% peraltro è quello che dicevamo un po' l'altra volta quando si parlava della partita contro dell'altra semifinale cioè se Mazzarri deve affondare che affondi con le proprie idee cioè è evidente che lui ci ha provato ci ha provato all'inizio a riportare quello che ha fatto Spalletti eccetera eccetera lui ha detto per una questione di caratteristiche dei giocatori cioè l'assenza di Kim, di un giocatore come Kim non può più riproporlo secondo me è proprio una questione di indole calcistica cioè non ce l'ha proprio lui nella sua indole quel tipo di è anche una questione di fiducia, di ambiente, di psicologia certo anche per cui fa benissimo a tornare tra virgolette nella sua comfort zone che poi si può chiamare così ma si può chiamare banalmente quello che conosce, quello che sa fare meglio ed è giusto che faccia così cioè secondo me è giusto che vada così e devo dire che come prestazioni comunque si vede qualche miglioramento alquanto anche nell'atteggiamento Vieri con l'Inter è una media... Ma sì, diciamo che appunto per quanto mi riguarda comunque il Napoli diciamo date anche le assenze tra Coppa d'Africa infortuni e tutto il resto diciamo ha fatto quello che poteva fare diciamo come si è visto anche con la semifinale tra Inter e Lazio Sarri ha provato a giocare provato a giocare alla pari e ha perso 3-0 quindi appunto anche sfruttando l'assenza dei supplementari si è provato a cioè a limitare il più possibile le scorribande anche se effettivamente ripeto è stato un miracolo arrivare al novantesimo perché se Turam è un po' più lucido è un po' più attento la partita finisce 30 minuti prima a prescindere dall'espulsione che ha aggravato ancora di più la situazione che ha reso il Napoli ancora più difensivo ancora più restio diciamo all'avanzare fermo restando che non è una giustificazione però io penso che il metro di giudizio adottato dall'arbitro tra primo e secondo tempo sia stato eccessivamente modificato diciamo perché non puoi al primo tempo lascia correre abbastanza per poi al secondo essere cioè essere così severo fermo restando che spesso e volentieri nella maggior parte dei dei casi comunque ogni volta che si è ammonito le ammonizioni erano giuste tranne ripeto la prima su Simeone che non lo so sarò di parte però io non la vedo ancora non riesco ad inquadrarla sì io al di là dell'amonezione su Simeone sono d'accordo sul discorso generale cioè a me non piace questo tipo di arbitraggio per il quale si lascia molto andare e poi si cambia completamente il metro di di utilizzo dei cartellini dovrebbe essere sempre coerente nel corso molto bipolare questo è un problema secondo me al di là ripeto dell'episodio di Simeone o non Simeone proprio in generale questo tipo di arbitraggio non mi piace ma a proposito di ammonizioni chi si è fatto ammonire o meglio chi si sono fatte ammonire perché sono arrivati due ammonizioni pesantissime per l'Inter quella di Cialanogo e quella di Barella perché erano entrambi diffidati entrambi salteranno la prossima gara un impegno non scontato contro la Fiorentina che sarà tostissimo senza due titolarissimi del centrocampo Cialanogo l'ha fatto per una questione di campo mentre Barella diciamo era evitabile è stato molto ingenuo e a proposito di questo visto che ne abbiamo spesso parlato anzi ne ha spesso parlato lui in particolare caro il mio Ale Drago che ne pensi di sta cosa qui perché tu spesso e volentieri gli si è espresso anche quando si parlava di capitano della nazionale eccetera come possibile faccia Barella o lo dicevi anche in relazione a non so se anche all'Inter sì sì soprattutto in relazione all'Inter dicevi è un giocatore che non può fare il capitano non può essere una figura del genere perché ha dei limiti caratteriali e comportamentali che lo limitano inevitabilmente lo rendono appunto nonostante le qualità tecniche atletiche bla 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 lo rendono un giocatore limitato perché se poi fai queste insomma se bucci scenate si può dire queste scenate queste cose ingenue comunque molto ingenue metti in pericolo la squadra te stesso e la danneggi per cui come la vedi da questo punto di vista? che non cambio idea l'episodo di ieri anzi ha rafforzato la mia opinione sulla questione posto che io in realtà calcisticamente parlando stravedo per barella è uno dei miei calciatori preferiti attualmente però secondo me essere forte essere simbolo di una squadra non significa necessariamente avere l'indole del capitano anzi io credo che appunto barella proprio per il modo in cui vive il calcio quindi in maniera molto trasportata molto emotiva renderlo capitano sarebbe veramente un problema sia per la nazionale ma oserei dire soprattutto per l'Inter anche essendo magari lui tifoso eccetera a me non piace come si relaziona con gli arbitri perché spesso è polemico spesso è eccessivo ieri ha fatto una scenata che poteva tranquillamente evitare ha protestato come se gli avessero fischiato contro un rigore quando si trattava di un fallo in attacco quindi una protesta grave e stupida che ha comportato una munizione a sua volta stupida e poi si è calmato sotto questo punto di vista perché l'Inter sta andando bene però quando le cose vanno male barella è un giocatore che spesso si lamenta con i compagni è un giocatore molto difficile da sopportare sempre a sbracciare sempre a litigare proprio con i compagni per certi versi mi ricordo un po' come faceva Iguain Iguain è grandissimo calciatore un fenomeno assoluto però tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere un capitano perché al primo pallone sbagliato Iguain si sbracciava si lamentava offendeva eccetera barella mi sembra lo stesso tipo di giocatore con lo stesso tipo di carattere anche se io credo nel magari è è un pensiero troppo troppo in là magari sto esagerando io forse ieri barella dopo aver saputo della notizia era talmente scosso che magari per quanto lui sia un giocatore che tendenzialmente le fa quelle stupidate ieri avrebbe evitato e gli è venuta fuori perché magari a livello mentale era condizionato io credo che ieri barella avesse la testa altrove anche perché ieri barella per me ha fatto una bruttissima partita a un certo punto andava veramente a due all'ora ha sbagliato tanti passaggi non era il solito barella che dopo l'errore rincorre l'avversario per riprendersi il pallone per essere decisivo soprattutto nel secondo tempo ieri barella non ha giocato e l'unico momento in cui ci ha messo un po' di foga in più è stato proprio quando è stato ammonito per le proteste contro l'arbitro quindi è una cosa di cui io solitamente gliene faccio una colpa nello specifico di ieri non voglio fargli una colpa tra l'altro io non lo seguo barella sui social ieri sono voluto andare a vedere se avesse costato qualcosa ieri barella non ha messo niente sulla supercoppa la prima cosa che ha messo giustamente è stata su Riva che forse io avevo visto questa cosa non so quanto sia vera o quanto non sia vera io credo che se barella giochi a calcio grande merito è di Gigi Riva che so che da ragazzino l'ho accompagnato nel percorso calcistico quindi solitamente gliene farei una colpa ieri invece per come sono fatto io tendo a giustificarlo per quel che è successo però ecco la mia idea sul barella che non può essere capitano non cambia barella è tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere un capitano ieri Lautaro non avrebbe mai fatto una cosa simile un Lautaro ma forse nemmeno un bastoni una non le fanno queste cose riescono a scendere l'extracampo dal campo sono d'accordo e e poi come hai detto tu c'è da considerare anche questo aspetto qui che potrebbe aver condizionato è strano stiamo facendo congettura perché tu solitamente pensavi cioè non eri d'accordo con questa cosa su barella me lo facevi notare spesso sul fatto che effettivamente no non c'entra niente quindi sono curioso di sapere il perché di questo cambio di prospettiva no non è che ho cambiato idea cioè riconosco essere un suo limite queste cose qui cioè lui ha questo fuoco interiore anche calcistico che mette sul campo che non riesce a contenere evidentemente che è uno dei suoi grandi pregi comunque che però non riesce a contenere sotto questo aspetto qui ma questo vale per tutte le squadre cioè se tra dieci anni Gatti e Vlaovic fossero i giocatori con più presenza nella storia della Juventus quindi dei simboli comunque non li vorrei mai come capitani perché sono questo tipo di giocatori qua ora a me non piace come giocatore però magari Locatelli potrebbe essere più adatto Danilo è un giocatore adatto a queste cose ma così come ce l'ha l'Inter con Lovaro io penso anche con lo stesso bastoni ma con altri giocatori semplicemente c'è chi lo può fare e chi non lo può fare sì poi non è proprio una questione sì non è una questione tanto del protestare o non protestare dell'essere anche con i compagni è proprio una questione anche di capire quando ha senso farlo quando non esagerare eccetera eccetera soprattutto se il capitano deve essere quello che parla sempre con l'arbitro rischi di prendere la monizione a partita e di danneggiare la squadra questo è il discorso detto questo poi come hai detto tu magari per questa volta anche se in Zaghi comunque l'ha criticato su questa cosa nel post partita quindi non l'ha risparmiato riguardo a questa cosa qui diciamo che per quanto ci riguarda non sapendo magari lasciamo lasciamo passare e questo discorso di Riva secondo me si può applicare anche su Mazzarri in un certo qual modo perché io peraltro ho visto quando lui entra nel secondo tempo che si si l'aveva appena saputo cioè lui lo vede dal maxi schermo peraltro lui credo abbia avuto un rapporto diretto in un certo qual modo corriva perché se non erro non vorrei dire una stupidata lui è stato giocatore del Cagliari quando Riva era presidente o una roba simile adesso non vorrei dire una stupidata veramente però aveva un rapporto diretto lo conosceva e quindi anche quello può averlo condizionato nel nervoso nelle cose quindi chiaramente noi giudichiamo da esterni e dal divano ed è più semplice chiaramente farlo però magari internamente ci sono delle robe che che ti mandano in tilt poi in un momento in cui sei particolarmente scosso non lo so poi chiaramente non lo sappiamo però Barri ha iniziato a giocare nella scuola calcio di Riva tra le altre cose esatto per cui poi a prescindere da questo diciamo che essendo cagliaritano sappiamo quanto rappresenta per ogni generazione l'abbiamo detto prima per cui questo questo c'è c'è da dirlo detto che insomma dal punto di vista del del Napoli abbiamo già detto che Mazzarri fa bene a switchare da questo punto di vista e a portare diciamo dalla sua parte il Napoli dal suo dark side dal punto di vista calcistico quindi difesa a 3 si va a 3-4-3 cioè e quindi detto che penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa qui caro il mio Ale Scogna cosa qual è la cosa che ti è piaciuta di più del Napoli comunque di ieri la cosa che più di tutte ti ha fatto ti fa dire ok è una stagione è un disastro questa stagione è difficile da digerire perché l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto dominando facendo figure clamorose in tutta Europa eccetera però ho visto questa cosa che mi fa essere un minimo speranzoso ma prima di rispondermi scusami leggiamo sto commento perché so poi cambiamo discorso più che altro se con frattesi si può cascare in piedi ho qualche perplessità per quanto riguarda Slani e Ciananoglu no classico scusami più che altro perché mi sono sembrati un po' meno inseriti rispetto a frattesi anche perché Ciananoglu ricopre un ruolo di cruciale importanza in mezzo al campo non è così scontato sostituire un mediano però Aslani se posso nella prima parte di stagione comunque Inzaghi spesso tendeva a inserirlo nei minuti finali quando doveva mettere in ghiaccio la partita però l'anno scorso però anche con delle prestazioni importanti contro la Roma l'ha decisa Slani con quel lancio perfetto per Di Marco che poi se non sbaglio segnò Turam Giuseppe correggimi se sbaglio in Interroma Klaassen effettivamente è un oggetto non identificato alla Pinedina Klaassen è stato un acquisto incomprensibile si sta confermando incomprensibile ecco su Aslani ho provato anche come attaccante a volte bisogna dire non è che è stato neanche messo sempre nelle condizioni io su Aslani continuo ad essere fiducioso comunque Klaassen è un prestito con diritto giusto? io credo che sia arrivato a zero hai a zero si è a zero mamma mia Beppe detto questo io sono d'accordo con sono d'accordo con con quello che dice Gabriele effettivamente cioè con frattesi comunque caratteristiche simili caratteristiche diverse qualità in cui spiccano diverse anche però è un giocatore di livello e ti dà delle cose importanti per frattesi per me c'entra più altro di citare come sta giocando è un imprescindibile in questo momento è più lui che se la gioca nel posto che non va in poi chiaramente vabbè non riapriamo il discorso frattesi e Barella l'abbiamo guardato tutta l'estate e per quanto riguarda Aslani secondo me non è tanto il livello di Aslani ma il livello di Cianoglu cioè il livello di Cianoglu è così alto che è difficile compensarlo poi molto starà comunque nel come l'Inter approcciare la partita se riuscirà a giocarla bene a prescindere da questo magari si noterà meno l'assenza del turco vedremo Ale dicevamo cosa ti fa ben sperare posto che comunque questa stagione diciamo è da buttare per tutto quello che è successo tutto quello che il Napoli ha passato comunque io da un paio di giorni da un paio di settimane a questa parte una cosa che non su cui non posso effettivamente recriminare anzi devo dar merito il fatto che Mazzarri è riuscito a dare a ridare voglia a a questa squadra di lottare per la cosiddetta maglia per la voglia di sudare la maglia perché appunto già già si era visto contro la Salernitana in cui appunto si era partiti dove c'era bisogno di una vittoria c'era bisogno di tre punti per ricominciare dopo l'ennesimo smacco si è riuscito a farlo diciamo in in una mazzarrata diciamo con una vittoria all'ultimo secondo però a prescindere da questo anche contro la Fiorentina e anche ieri sera contro l'Inter si è visto un atteggiamento diverso probabilmente appunto dato dal fatto che Mazzarri finalmente si sia imposto con le sue idee con il suo stile di gioco piuttosto che cercare di cercare di avvicinarsi all'idea di un Napoli che oggettivamente è irraggiungibile è irreplicabile perché il Napoli dell'anno scorso bisogna mettersi l'anima in pace è finito lo scorso anno e basta probabilmente sarebbe stato irreplicabile anche da Spalletti stesso chiaramente non ci sarebbe stato questo distacco perché si sono creati degli standard talmente alti che o fai meglio ed è obiettivamente quasi impossibile oppure oppure niente qualsiasi altro qualsiasi altra cosa non avrebbe soddisfatto la piazza o chi che sia quindi è questo che diciamo spero si spero si continui a vedere dalle prossime volte anche perché il Napoli può può e deve ambire al quarto posto non di più perché appunto sia per una questione di falsa partenza all'inizio anno sia per una questione di di qualità della rosa diciamo al momento per questa per questa stagione il Napoli non può ambire più in alto del quarto posto però magari con questa esatto va che magari se si allinea qualche pianeta ci riesci anche ad andare in Champions o quantomeno puoi lottare concretamente anche perché il treno che c'è adesso dalla quarta all'ottava posizione prima o poi si allungherà quindi bisogna cercare soprattutto di restare in corsa negli scontri diretti dove si deve provare appunto a fare il possibile ad arginare e bisogna fare diciamo come l'anno scorso e non come gli scorsi anni in cui si perdono punti nelle partite diciamo più scontate che scontate non sono altrimenti fai una dimatteata di cui Mazzari una vittima e vai a vincere la Champions magari io ci credo io ci credo Mazzari in testa all'Europa onestamente se per qualche strano motivo battessimo il Barcellona per me sarebbe una stagione già salva perché appunto arrivi ai quarti di finale per la seconda volta nella tua storia e onestamente non l'hai mai fatto meglio quindi poi però devi ripartire cioè il fatto è che uno può pure ripartire dall'Europa League però devi ripartire per bene mentre il Napoli mi sembra ancora stia un po' operando ma l'avevamo già parlato l'altra volta in maniera un po' casuale sul mercato non lo so vedremo poi molto dipenderà dall'allenatore chiaramente se vai in Europa League ti puoi scortare i grandi nomi che con questo schema a tre forse al Napoli servirebbe più un difensore centrale eh sì già serviva prima adesso adattato lo può fare però non è che mi faccia proprio impazzire di Lorenzo Braccetto sì ma appunto perché alla fine vai a limitare diciamo lo vai a limitare parecchio perché non non si può spingere più di tanto ovviamente dovendo restare bloccato a dare un po' più di copertura ma l'annata non è funzionata sì ok poi c'è c'è da dire anche che comunque tra Coppa d'Africa e tutto e infortuni il Napoli non se la sta passando nemmeno benissimo proprio dal punto di vista numerico tanto è vero che probabilmente verrò verrò convocato io per la partita con la Lazio considerando che comunque è importante tre sono tre sono squalificati due sono in Coppa d'Africa e altri sono in dubbio tra infortuni o presunti tali qui Dotto diceva in chat esco un po' dagli sfotto del caso Mazzari sicuramente non brilla per simpatia ma ciò non toglie che è un signor allenatore da Reggio Calabria salvezza partendo da meno 10 eccetera eccetera poi tutti i vari traguardi con la Samp con il Napoli ha fatto bene anche con l'Inter parzialmente nel senso perché aveva un disastro di squadra quindi parzialmente lo si può rimproverare meno rispetto a quello che è successo dopo io sono d'accordo con te per quanto riguarda la figura di Mazzari storicamente per me è stato un grandissimo vabbè un grandissimo è stato un grande allenatore una grande figura degli ultimi anni del calcio italiano cioè degli ultimi anni degli anni passati del calcio italiano il problema è che come avevo già detto in realtà quando era arrivato mi sembra una figura che non c'entra nulla con questo livello attualmente cioè mi sembra proprio fuori contesto da questo livello qui soprattutto da Napoli campioni d'Italia capito poi è una figura per carità che è stata presa per tamponare quello che vogliamo però anche lì cioè il discorso è che è stata presa una figura di traghettatore a ottobre quando è stato esonerato Garzia novembre ottobre per cui cioè c'era tutto il campionato ancora mi sembrava una scelta un po' strana infatti lo sta andando benissimo però sul livello generale dell'allenatore infatti questa è una cosa che facciamo spesso cioè il riscrivere in negativo la storia di qualcuno perché fa male magari negli ultimi anni o perché poi ha fatto molto male nelle varie nelle varie a Torino a Torino a Torino a Torino a Torino a Torino però l'ultima l'ultima volta l'ultima diciamo è stata l'ultima avventura positiva è stata quando 2017 l'ultima stagione buona che ha fatto nel 2019 2019 vabbè comunque è abbassato il tempo ma sicuramente nel 2019 ma comunque il problema non è Mazzarri perché alla fine comunque non ci si può aspettare che appunto il primo allenatore che viene preso che non è il primo però ok possa cambiare le cose di punto in bianco alla fine l'allenatore purtroppo anche io lo vedo diciamo limitato ad un'idea di calcio passata diciamo beh un po' vecchio quindi alla fine anche da tifoso non riesco a prendermela con Mazzarri ma quanto più che altro esatto sarebbe anche sbagliato delle ultime partite tipo con il Torino soprattutto in cui appunto hai toccato davvero il fondo di questa stagione ci sarebbe da capire se però se questo andamento comunque secondo me non positivo con Mazzarri perché l'hai detto tu non è sconfitta col Torino insomma non positivo con Mazzarri se in qualche modo non dico va a rivalutare in positivo perché non c'è niente da rivalutare in positivo però se in qualche modo riesce a giustificare la gestione precedente perché secondo me tra la la grande impresa dell'anno scorso tra il fatto che il Napoli non ha un direttore sportivo tra il fatto che De Laurentiis quest'anno come non mai ha delle grandissime manie di protagonismo a me da esterno poi mi sbaglierò sicuramente mi viene da dire che forse Rudy Garcia non aveva tutte le colpe di questo mondo questo non vuol dire che non le avesse però effettivamente mi sembra che lui sia stato un po' troppo vessato rispetto a quelle che erano le sue effettive responsabilità ma sì perché alla fine lui è stato buttato diciamo nel calderone del vabbè cioè c'è da dire che a mio modo di vedere è anche colpa la colpa del fallimento di questa stagione riguarda un eccesso di egocentrismo da parte del presidente che ha che ha che cioè onore a lui che in vent'anni ha portato questa squadra dal fallimento ad uno ad uno scudetto ok però diciamo che quest'estate c'era bisogno di riconfermarsi tra acquisti di livello e rinnovi dei tuoi giocatori più 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 preziosi che non sono arrivati di fatto vedi Cosyman proprio perché sei tu proprio perché tutti ti conoscono perché sei De Laurentiis la tua famigerata lista di allenatori prescelti è stata quasi tutti ti hanno praticamente scaricato ti hanno dato il palo e quindi ti sei dovuto affidare ovviamente ad un allenatore anch'esso appunto possiamo dirlo finito già da tempo che si è preso che ha avuto appunto fin dal giorno 1 questa spada di Damocle del dover rimpiazzare l'allenatore dello scudetto che appunto per qualsiasi società per qualsiasi gestione sarebbe è qualcosa di difficile da superare da portare ma soprattutto soprattutto poi a Napoli dove dove erano 30 anni e passa 30 che non si vedeva una cosa del cielo e io aggiungo una cosa per quanto riguarda Garzia che è stata una delle cose per la quale l'ho sempre difeso tra virgolette e nonostante per avere le sue colpe e nonostante la scelta di Garzia secondo me non mi avesse mai convinto cioè stiamo parlando di uno che allenava in Arabia Saudita che è stata esonerata in Arabia Saudita per cui che ricordiamo non è non c'entra nulla con il calcio con il campionato lì nonostante qualcuno lo paragoni e dica sia meglio della Ligan ma abbiamo i due più grandi CR7 fan andava fatta questa battuta ragazzi scusate che cazzo stavo dicendo dicevo ah nonostante Garzia sia stata una chiamata sbagliata da parte dell'Aurentis l'ho difeso in quello perché secondo me era stato visto come il capo espiatorio numero uno cioè è stato utilizzato come il capo espiatorio numero uno Garzia è l'allenatore cioè più di qualsiasi altra cosa secondo me che gira attorno e che possa giustificare il suo lavoro secondo me la cosa principale è che si è stato forse dal primissimo giorno abbandonato cioè abbandonato dal tifo abbandonato dalla società abbandonato dalla squadra dal presidente esatto più di tutti è tutto è una cosa che chiaramente cioè se il presidente pubblicamente ti sfiducia cerca Conte cioè l'ultimo mese ma appunto puoi essere anche Guardiola ma come cioè come si non si può lavorare le condizioni di lavoro in cui appunto dovresti fare del tuo meglio sono non sono ottimali diciamo e non è un caso che appunto anche per questo motivo si dice che appunto Spalletti se ne sia andato perché la relazione con i laurenti si era andata a deteriorare completamente sì quell'uomo deve essere lo grande deve essere proprio lo grande poi che Spalletti abbia abbia firmato per la nazionale nonostante sul contratto non lo potesse fare quello è un altro conte un altro discorso che appunto va messo da parte però 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 a noi va bene così se laurenti sale i suoi colpi mi migliorano portaci all'europeo dai cazzo no Giugio ci ha portato facci vincere l'europeo faccelo vincere ti faccio rivincere portaci al mondiale che magari eh vabbè ma starebbe ora gli chiediamo ora gli chiediamo pure di fare i mondiali cioè non esageriamo se non lo fa lui non esageriamo miracoli più che passano 64 squadre poi anzi 128 sì allora siamo a 750 squadre e ci vogliamo e ma allora provocazione visto che è una bella sciarpa della S Roma no 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 José Mourinho no no José Mourinho al Napoli ti dico che piuttosto che avere Mourinho voglio la minestra riscaldata di Sarri 2.0 va bene va bene però gasa Sarri se torna sì va bene la sciarpa della S Roma è qui solo perché vabbè perché sono a Roma e quindi senza la polizia romana fai vedere la bandierata la magica questo visto che sei a Roma devi mettere una sciarpa della Lazio questo è un altro discorso non penso che lo farò ma non si capisce perché questa provocazione poi sto tifando un sacco Roma negli ultimi anni però andava detta questa frase così a caso vabbè no veramente ora a parte gli scherzi Mourinho no cioè non già a parte questo a parte che appunto sì già già ci sono state dei dei batti vecchi diciamo alla lontana tra entrambi sono diciamo li metterebbero da parte conoscendo i personaggi comunque a me è un po' subito così dispiacerebbe vederlo subito un'altra panchina italiana sinceramente almeno ma poi ecco ho capito che aizza la folla va bene tutto quello che vuoi a Roma ha fatto 40 soldi lo scudetto dei 40 sold out di fila va bene ok però cioè io vado allo stadio non per vedere Mourinho ma per vedere i calciatori che scendono in campo prossimi devo fare un anno e mezzo due di come si dice da noi di da chiattato in corpo che devo vedere la squadra che deve giocare male che deve giocare sui nervi pur di puntare a vincere in questo modo tra l'altro con con parole in allenatore che con un allenatore scusami con un presidente che diciamo non può nemmeno accontentarti se diciamo tu vuoi portare vuoi provare a portare i cosiddetti i Dybala e Lukaku della situazione che vengono solo per te con un presidente che non te lo fa fare ma però però ci li hai già i Dybala e Lukaku della situazione perché Dybala e Osimane secondo me uno vanno via posto che Dybala ha 100 volte più forse di Quaroscari però questo non ci può sì ma io spero per la sua carriera però se Osimane va via ti arrivano una barcata di soldi e poi prende un altro giocatore ma secondo me prendi più più giocatore e trovi l'azzardo di moto il calciatore ma che ride cosa ride se il Napoli vendosi man prende Belotti come primo attaccante tu ridevi perché non reinveste secondo te ma ti pare ma per favore ma l'ha sempre fatto dai ma sì che riveste parzialmente ma reinveste poi chiaro lo farà male perché da solo senza un bravo direttore lo farà male perché da qualche tempo si sta provando solo il mercato delle scommesse quindi si punterà sul comunque sono d'accordo non lo so il nome di un giovane che su FIFA ha potenziale 85 quindi vinceremo anche noi il secondo scudetto di fila del fatturato del bilancio impositivo di 500 milioni quindi ma anche anche in gong a 20 milioni non acquista a caso per quanto mi piace a gong ma pagarlo 20 milioni l'indstrom mai usato l'indstrom che stava segnando da centrocampo a un certo punto l'unico highlight della sua stagione e Raspadori Raspadori è l'esempio è un esempio lampante a mio modo di vedere di acquisto sbagliato su tutti i fronti perché non è collocabile non è utilizzabile questo Napoli ma nemmeno nel Napoli dello scudetto non è adatto per questo Napoli in realtà ha avuto un momento che sembrava lui ha il merito di averci fatto fare due vittorie con due suoi gol contro la Spezia e la Juve però a parte quello diciamo tra gli uomini dello scudetto era uno di quelli meno incisivi meno inseriti meglio più che altro è proprio una questione di caratteristiche non di livello secondo me il livello c'è però appunto non non è adatto andrebbe bene all'Inter ma io nel Milan ce lo vedrei potrebbe anche al Milan detto questo beh al Milan sì tornando all'Inter e chiudendo con l'Inter terza supercoppa per terza supercoppa di fila per l'Inter con Inzaghi quinta supercoppa per Inzaghi che diventa l'allenatore con più supercoppe nella storia della competizione e lui ha vinto anche tre coppe Italia se non erro ma quindi sono complessivamente otto trofei ma non ha ancora mai vinto lo scudetto il dubbio è che perché l'altra volta si ragionava si faceva dopo questa statistica delle delle supercoppe e Paolo giustamente diceva sì sì bello il record delle supercoppe mi piacerebbe facessi il record di unico allenatore a vincere lo scudetto quest'anno che poi è la cosa principale e il discorso è ti ha vinto questo ti ha vinto la supercoppa ti ha vinto tre supercoppe di fila ha vinto la supercoppa quest'anno ti ha valorizzato molti giocatori la squadra comunque gioca bene eccetera 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 se a fine anno se a fine anno il signor Inzaghi Simone non vince lo scudetto Giuseppino Minervone lei cosa fa se è nella dirigenza dell'Inter lo rinnova cioè lo mantiene o cambia allenatore perché poi questo è il tema perché per ora non ci sono dubbi su Inzaghi però se non dovesse vincere lo scudetto secondo me qualche dubbio tra tifoseria e dirigenza ci sarebbe sicuramente Io da buon ipocrita visto che l'anno scorso ho detto che doveva vincere letteralmente la Champions per salvare la stagione dico che quest'anno secondo me comunque sarebbe giusto mantenerlo anche se non dovesse vincere anche se dovesse avvenire la catastrofe perché comunque ha creato un sistema che è ultra collaudato ha valorizzato tantissimi giocatori e poi se devi sostituirlo devi andare a prendere proprio per me un allenatore di caratura internazionale che non ci potremmo mai permettere quindi poi anche smantellare la squadra secondo me non avrebbe per far giocare in modo diverso non lo so quanto senso avrebbe ormai perché poi ovvio che adesso sembra impensabile vedere l'Inter giocare in maniera diversa perché lo fa alla perfezione non so dovrebbe veramente rompersi tutto perché perché Inzaghi sia da Esonero secondo me non lo so Ale Drago ma posto che secondo me Inzaghi è sempre meglio averlo che non averlo perché comunque sia io lo considero un grande allenatore come ha detto Giuseppe ormai l'Inter ha un sistema talmente collaudato che dare via Inzaghi significherebbe ripartire totalmente da capo perché l'Inter ha un modo di giocare ben preciso ha riuscito a creare anche un bel collante con la squadra a me l'Inter sembra anche un gruppo molto coeso all'interno e questo secondo me è un grande pregio dell'allenatore quindi io lo terrei però io personalmente credo che al terzo anno di Inzaghi dopo insomma dopo un percorso di crescita non vincere lo Scudetto per me sarebbe un fallimento ma poi al terzo anno da favorito da miglior squadra sarebbe perché allora il primo anno l'Inter se l'è giocata fino alla fine in realtà diciamo che lo ha perso poi lo Scudetto perché comunque si è partito da una situazione di vantaggio l'anno scorso l'anno scorso l'anno ha fatto peggio però è giustificabile dalla grande stagione del Napoli magari l'anno scorso cioè giustificabile dal fatto che il Napoli ha fatto una stagione incredibile però l'Inter per me in campionato ha fatto una stagione non dico pessima però insomma l'Inter mi farà di fare qualcosa come dieci sconfitti in campionato dieci sconfitti in campionato cioè dodici sconfitti in campionato le fanno le squadre di metà classifica non le deve fare l'Inter e quindi per me l'anno scorso ha fatto una brutta stagione infatti l'anno scorso è stato criticatissimo è stato veramente a un passo da lasciare l'Inter quest'anno sta facendo benissimo poi purtroppo per loro meglio per me c'è stata questa grande sorpresa della Juventus che l'Inter è una macchina perfetta però c'è quest'altra squadra che sta riuscendo a tenere il passo all'inizio arrancando poi mettendo gli ingredienti nella pozione magica e continuando ad andare però l'Inter deve vincere il campionato quest'anno assolutamente io credo che se non lo dovesse vincere Inzaghi lascerebbe io credo che lascerebbe lui o verrebbe esonerato in ogni caso perché comunque sia per me questo è il culmine del progetto di Inzaghi all'Inter e si deve concretizzare per la società e anche per lui perché ormai comunque sia non è più un allenatore novellino è un esperto è uno che allena in seria da tanti anni è uno che ha una certa reputazione però ha anche la reputazione di quello che vince le coppe e il campionato non lo vince quest'anno lui deve invece invertire la tendenza e se non ci riesce è un problema spero che non ci riesca dipende anche dal percorso europeo l'Inter l'anno scorso è arrivata in finale di Champions in maniera inaspettata poi secondo me è una squadra molto molto forte non è una squadra cioè secondo me da finale nel senso che ci sono squadre più forti dell'Inter posto che se l'hai meritato il fatto è che quest'anno agli ottavi affronti già una squadra più forte di tutte quelle che hai affrontato l'anno scorso è capito io non voglio dire però secondo me può dire la sua ma certo che può dire la sua secondo me è favorita l'Inter con l'Atletico secondo me sono pari le rosse anzi no per me l'Inter è più forte però dico non voglio dire che l'Inter dovrebbe lasciar perdere la Champions League perché io sono sempre dell'idea che una competizione vada onorato fino alla fine anche perché se no non potrei criticare Sarri che ogni volta le competizioni non le gioca però c'è anche la dire che arrivati a un certo punto della stagione se dovessi scegliere quanto dosare le energie certo io preferirei risparmiarle per il campionato Fustin Inzaki perché alla fine l'obiettivo vero e tangibile è quello in parte l'ha già fatto il giro posto che comunque sia il fatto che lui abbia vinto 5 Supercop abbiamo detto 3 Coppa Italia dimostra un allenatore che sulla partita secca è un maestro per me lo dimostra anche la finale di Champions League abbiamo visto un City schiaccia sassi anche l'Inter e poi nella finale forse ai punti l'Inter avrebbe meritato anche qualcosa di più poi chiaramente dall'altra parte c'è una squadra più forte e quindi arrivi a perdere però questo dimostra che lui è un allenatore di alto livello che quest'anno più degli altri anni sta riuscendo a portare quella mentalità che soprattutto l'anno scorso è mancata anche in una competizione lunga e questo per me è un grande pregio l'Inter alla fine ha steccato la partita contro il Sassuolo e quella di di Genova no? poi all'Inter quest'anno che cosa le vuoi dire? e che poi il rendimento del Napoli dell'anno scorso cioè la Juventus a me viene da ridere perché ora la Juve ha due punti in meno sì però il cammino delle due squadre è praticamente uguale sconfitta contro il Sassuolo pareggio contro il Genova insomma l'unica differenza è la partita di Berga l'Inter ha vinto con quella giocata di Dautaro peraltro bellissima con quel gol e c'era Noglu c'era Noglu sul rigore con il filtrante Darmiano con il rigore me lo ricordo una delle prime puntate del Fumelina buonanima e mentre la Juve pareggio 0-0 meritava pure di perdere perché la Tantana Miners ha due gol sulla coscienza però è per questo che la Juve è in corsa per lo scudetto perché appunto anche quando magari meritava di perdere non perdere a parte Sassuolo per quello vabbè lì è stato una sorta di la vedo come una sorta di mental breakdown da cui la Juve poi è uscita benissimo perché da lì in poi ha fatto percorso quasi netto quindi però è questa la differenza con l'anno scorso secondo me la volontà sono due squadre che non riescono a perdere la volontà di puntare sul campionato da parte dell'Inter secondo me si nota anche dalla partita di ieri la Lazio non ha giocato in semifinale ed è stato un allenamento per l'Inter che comunque sia se proprio volessimo trovare il pelo nell'uovo poteva vincere 9-0 e ha fatto solo tra virgolette tre gol ieri l'Inter secondo me Barella è stato un esempio però tanti giocatori non mi sono sembrati in partita io ho visto un Inter proprio che giocava col freno a mano tirato secondo me sia perché erano convinti di vincere alla fine sia perché sicuramente sia perché nonostante il record di Inzaghi eccetera per me la squadra fregava poco della partita se l'hanno vista di Simeone sembrava quasi che l'Inter dispiacesse attaccare sembrava infatti è stata una partita ma per esempio ha cincato col tiro cioè all'Inter non frega niente se non del campionato e per me Inzaghi dovrà però questa è una cosa ancora più pesante quindi se non lo vince è ancora più ma è lo stesso discorso che si faceva tre anni fa con Conte quando venne eliminato da ultimo nel girone vabbè lì però è un altro discorso lì fu un fallimento clamorosa in Europa è una roba imbarazzante però abbiamo cosa abbiamo detto tutti obbligati a vincere è sempre una parola e lì era anche più obbligato sì però sono quelle situazioni in cui tu comunque sei obbligato per la reputazione che hai per la squadra che hai a vincere il campionato poi uno dovrebbe dire sì non si è mai obbligati a vincere perché non è mai scontato però in quel caso là poi l'Inter era molto più forte delle altre e non aveva coppia però secondo me anche quest'anno al terzo anno di Inzaghe con la squadra che ha l'Inter se non vinci lo scudetto è un fallimento però se fai 90 punti e perdi lo scudetto che li vuoi dire a sta squadra ma infatti per me la partita del 4 febbraio quando saremo a febbraio deciderà tutto chiaro chiaro finirà 1 a 1 di nuovo 0 a 0 e big match italiano 1 a 1 col di l'autore e gatti perché è una partita del col di l'autore e gatti lancio il telecomando nel televisore se mi sei negato rispetto detto questo stai parlando contro il più grande fan di Federico Gatti assolutamente di questo me ne vanno di questo me ne vanno pensi che scrivo ema che scrivo troppo